ciao a tutti ragazzi allora il giorno dopo bisogna assolutamente parlare di quello che accaduto ieri a roma lo avevamo detto prima subito istante zero emozione godere però lo sapevate che l'orgasmo di un maiale dura 30 minuti quindi passate questi 30 minuti ora ci mettiamo qua invece parliamo seriamente con i piedi per terra e cerchiamo di capire l'assurdità di ieri a roma prima di tutto voglio ringraziarvi voglio ringraziarvi perché i due video quindi il post partita caldo e la reaction sono andati benissimo quindi grazie per il supporto grazie per i commenti ho visto che vi siete rivertiti a vedere anche dove ragù non c'è scappato sta bene mi avete chiesto se stava bene ma sta benissimo è diventata una piccola star del web quindi adesso è andato a farsi bello e sono contento del supporto che c'è stato è una serata strana è una serata bizzarra è una delle penso serate più assurde nella mia vita anzi esagero la più assurda era quando faccio youtube lo dico tranquillamente perché una roba del genere non l'avevo mai vissuta qui avevo vissuto il 4-3 con il napoli a torino quindi da qui da casa una roba del genere davvero non l'avevo mai vista però bisogna anche davvero mettersi qua e ragionare su quello che è accaduto due piccole informazioni di servizio le pagelle usciranno questo video lo volevo fare prima perché era logico capire prima che cos'è accaduto veramente e poi successivamente invece va a votare i singoli seconda cosa Federico Chiesa in stampelle al J Medical si teme un lungo 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 stop vediamo che cosa sarà ma vabbè non lo dico perché non voglio dirlo in diretta chi era con me ieri su twitch se ne sarà accorto da subito che la prima volta che l'ho visto cadere nel replay nel replay quando correrà per terra ho detto no il ginocchio perché ha fatto veramente un movimento strano poi quando è tornato in campo ho detto vediamo che cosa succede ma correcchiava zoppicava non ce la faceva Federico ha lottato Federico un leone avessero tutti la voglia di Federico Chiesa saremo primi in classifica e vinceremo la Champions lo dico tranquillamente perché qui ancora una volta è saltato fuori un discorso di personalità ma ci arriviamo perché bisogna scendere le due cose ieri abbiamo visto una carenza tecnica e di personalità nel primo tempo e in aumento tecnico di personalità nel secondo non si può dire allora dato che abbiamo vinto con la Roma va tutto bene no no e che era ancora una volta ieri con me su twitch si sarà accorto che io ero completamente devastato ma si iniziavano a fare dei ragionamenti a ritroso perché qui ragazzi si è arrivati nuovamente al punto in cui pare che l'unico problema sia l'allenatore come si è arrivati a quel punto l'anno scorso compirlo come si è arrivati con Sarri e io vi ho portato su youtube qualche tempo fa una clip riassuntiva di tutti i momenti storici in cui vi parlo degli allenatori nei momenti storici in cui si discuteva di cambiare allenatore tutte le volte vi sottolineavo ragazzi si può dare la colpa all'allenatore certo ma ricordatevi che non è tutta colpa dell'allenatore e io sono anche abbastanza stanco di dover tornare sul discorso e dire cambiamo allenatore ne prendiamo un altro e sicuramente si migliora perché quello è l'unico problema no 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 e no anzi aggiungo che secondo me l'allenatore nella sacra triade delle colpe società giocatore allenatore l'allenatore ha tantissime colpe ma nel triangolo è quello che ne ha meno in percentuale perché la dirigenza secondo me in questo momento ha il 50% di colpe perché se dopo tre anni continui a cambiare tre allenatori e a non fare mercato per nessuno di quei tre allenatori se non Pirlo ma era un esordiente era un esordiente Pirlo per forza di cose poi ha fatto fatica a gestire questo gruppo perché lì c'è stato l'errore di valutazione su quanto potesse essere pronto Pirlo poi faccio un passo indietro aggiungendo questo pezzettino di Allegri questa andata di Allegri più le due di ritorno capisci che probabilmente non è un discorso che Pirlo non era pronto a gestire a questa Juve o almeno non solo perché ancora una volta cambi Allegri, prendi Sarri, non fai mercato per Sarri cambi Sarri, prendi Pirlo e inizia un processo di ringiovanimento ma Pirlo il tempo di farlo no, non ce l'ha cambi Pirlo, prendi Allegri non fai mercato ad Allegri e tutti gli anni continui a cedere i pezzi pregiati della rosa e a sostituirli in maniera non adeguata allora a un certo punto anno dopo anno dopo anno dopo anno la gran fetta di colpa della torta è tua è tua perché devi iniziare veramente a fare secondo i calciatori secondo posto in assoluto perché se anno dopo anno cambi allenatori ma ci sono alcuni giocatori che continuano a non rendere mai o poco o a targhe alterne o a stagioni alterne o a momenti delle stagioni alterne allora significa che c'è una gran percentuale di colpa anche nei calciatori l'altro giorno io vi dicevo che non voglio più vedere in campo Alexandro e Rabiot a questo punto qua perché non ha senso insistere e perseverare su chi ha giocato oltre mille minuti in un'andata e non ha praticamente mai reso se non in un paio di partite magari sarà una casualità sarà una coincidenza perché ormai basandoci sulla partita ieri dobbiamo parare di coincidenze ma ieri Alexandro e Rabiot non si sono visti non si sono visti e hai avuto la personalità di ribaltarla poi io non sono così convinto che con altri giocatori in campo in quel momento potesse finire nello stesso modo ma vi sto parlando di personalità a un certo punto Landucci fa dei cambi e qua dico Landucci perché è in conferenza stampa post partita dice eh non si sa chi ha fatto i cambi non lo dico segreto poi aggiunge con la battuta e li ho fatti io io non so se il cambio doppio cambio Morata Artur per Ken Bentancur nasce da Allegro nasce da Landucci non lo so non ne ho più pallida idea però dico che Artur Locatelli McKennie non li avevamo mai visti tutti e tre insieme e penso proprio che questa squadra a livello tecnico abbia subito quel boost oltre di personalità perché c'è stata più personalità in quei dieci minuti per ribaltarla proprio a livello tecnico piano tecnico vi metto in campo tutto quello che ho e abbiamo detto tante volte Locatelli e Artur quanto vorremmo vederlo sul centrocampo poi ovvio che rischi qualcosina in più perché ti manca il mediano di interdizione davanti alla difesa però se andate a rivedervi due gol nascono entrambi con Locatelli che è più alto rispetto al solito beh il primo della rimonta quindi il gol di Locatelli proprio perché Locatelli si va a buttare dentro cosa che di solito non fa mai perché deve rimanere dietro con compiti di regia il secondo con Locatelli che è più avanzato e fa quella sventagliata che crea poi il gol di di Kuluseschi sul colpo di testa respinto di Morata no? Locatelli più avanti perché c'è Artur più dietro leggermente più dietro pensiamoci bene prima di dar via Artur a gennaio pensiamoci bene piccolo biondo mio angelo brasiliano che è vero che nelle prime partite che ha fatto con continuità quindi a dicembre non ha reso come doveva ma qui stiamo parlando di sbloccare Locatelli perché il gol di Locatelli è bello da vedere perché Morata che è l'attaccante che non è in area perché fa l'assist e va sull'area sul lato di sinistra per il cross non è in area ma chi la va a riempire l'area? Locatelli e McKennie le due mezzeale i due centrocampisti perché poi mezzeali non è vero perché McKennie faceva quella specie di largo a sinistra nel 4-2 storto 4-2-3-1 storto però due centrocampisti in area a riempire l'area e quando Locatelli deve fare il regista in area non ci va giustamente perché non è che può fare tutto lui è poveraccio quindi non tanto perché Artur quanto più perché è l'unico oltre a Locatelli a fare quel compito lì a dare della tecnica e della qualità e del palleggio perché questo non bisogna toglierlo ha dei difetti certo ovviamente rallenta il gioco perde un tempo di gioco gioca solo sul corto va bene ci sta è giusto ma per personalità e per tecnica caga in testa a Rabiot e a Bentancur di gran lunga non dico Rams perché è in uscita ma a Bentancur e a Rabiot gli caga in testa tranquillamente scusate se sono un po' scurrile ma questo è e lo abbiamo visto in quei 10 minuti di follia perché è vero che sono irripetibili è vero che è una magia ma cerchiamo di analizzare le cose fatte bene anche sul profilo tecnico prima volta che li vediamo insieme quindi che si allegri che sia Landucci io non lo so però la casualità qua la coincidenza è che li mette dentro Landucci quindi non lo so che anche qui magari abbiano un po' di idee confuse tra le loro incongruenze non ho niente io da qui da questa partita mi porto dietro che questo è un punto di ripartenza è un punto di ripartenza perché questa è una squadra con gravi limiti tecnici siamo in crisi d'astinenza da giocatori tecnici e allora buttiamoli dentro senza pensare al eh però sai quanto subiamo questa squadra questa squadra lo diciamo da ottobre da novembre non è una squadra per Allegri mi ricordo che ho fatto il video con Michael Righini e dicevo ragazzi la mia più grande paura in assoluto riguardo ad Allegri è la seguente che lui stia cercando di dare la stessa impronta che dava in precedenza a queste Juventus fregandosene delle caratteristiche tecniche dei suoi calciatori soltanto per far vedere che aveva ragione lui e questo è sbagliato perché non si fa il bene della Juventus non si fanno non si fa il bene della Juventus se si inseguono delle guerre personali quindi Max se davvero questo è stato fino adesso hai sbagliato ci sono stati tantissimi errori che ti abbiamo già detto tante volte mettili da parte prenditi quello che abbiamo visto ieri sera in quei 10 15 20 25 30 minuti finali e portatelo a casa perché questa non è una squadra in grado di difendere il risultato è vero che anche ieri abbiamo vinto di Cortomuse ed è vero che Cortomuse è stato decontestualizzato perché Allegri non si riferiva al risultato sportivo bla 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 abbiamo vinto di un gol di scarto è vero ma questa squadra qui in quei 10 15 minuti lì in cui fa quella roba lì ha dimostrato più palle e più gioco gioco non inteso come bel gioco ma predisposizione a creare occasioni pericolose senza preoccuparsi tanto di oh mio dio me ne fanno un altro in contropiede questa squadra gioca bene e libera e bene sapete sempre che non intendo in maniera esteticamente bella ma in modo efficace gioca libera quando non pensa al risultato quando pensa che ormai non c'è più niente da perdere io ora vi dico una cosa che mi sono tenuto dentro tanto tempo in questi mesi a inizio anno quando andavamo sotto o comunque succedeva un momento in cui eri messo male una piccola vocina dentro di me era contenta perché sapeva che in quel momento lì qualcosa in più lo andavi a vedere perché precedentemente si vedeva sempre poco e c'era questa continua sensazione di una squadra che si accontentava che è un po' quello che ho criticato l'altra sera col Napoli ma ti puoi accontentare a Torino contro il Napoli messo in quel modo lì che aveva appena preso gol e aveva la lingua fuori non ti puoi accontentare dell'uno a uno che era quello che dicevamo quando sentivamo Allegri parlare in conferenza stampa e dire sarei contento al 28 di febbraio di avere 4 punti di distacco sulla quarta ma non può esistere che la Juventus faccia questi ragionamenti qua a me va bene che l'allenatore si metta qui guardi la fase difensiva e poi cerchi di aggiustare a inizio anno perché c'è ancora lo scudetto ma quando ti rendi conto che lo scudetto non c'è più e il mantra del campionato italiano lo vince la miglior difesa ma mettilo via soprattutto se ti accorgi che questa squadra non è in grado di difendere il risultato non c'è più la BBC ad alti livelli non c'è più Manzu che ti fa il terzino se ci metti Chiesa a sinistra sperando che possa tornare Chiesa è un giocatore che va avanti non viene indietro cioè dobbiamo capire le caratteristiche di questi calciatori qua abbiamo dei calciatori che devono andare abbiamo dei calciatori che sono forti nell'impeto noi possiamo tenere dietro tutti lì o comunque cercare di fare una squadra che prima si preoccupa di non prenderlo il gol e poi te lo vuole provare a fare in qualche modo abbiamo visto per la prima volta nella stagione che i gol li possiamo fare poi è un exploit è una mosca bianca è qualcosa che non capiterà mai più probabilmente di fare tre gol in dieci minuti e rimutare una partita del genere certo ma inizia a prenderteli quei pezzettini lì quei pezzettini lì inizia a prenderteli e metterteli in tasca poi qualcuno mi faceva notare di Ken Morata perché io in questi giorni mi sono sbilanciato e ho detto io dal primo minuto voglio iniziare a vedere Moise e Ken perché è otto anni più giovane perché è tuo e l'hai pagato 38 milioni di euro con l'obbligo di riscatto cosa che io non avrei mai fatto ma al momento che la fai ed è tuo e devi spenderli devi valorizzarlo contro un giocatore che ha già la testa in Spagna perché vorrebbe andare in Spagna ma ieri ha dimostrato di no nel risultanza con Cesni proprio ha dimostrato di no ma proprio no ma proprio no ma anche con il pillion comunque entrato ma ci arriviamo che tra sei mesi non è più tuo e che ormai è arrivato al fine della ciclo Morata e Ken l'ho detto però non sono paragonabili perché Morata è molto più avanti di Ken è molto più forte di Ken Morata in questo momento però Morata non sta facendo chissà che cosa quindi in questo momento io preferisco vedere Ken dal primo minuto e Morata da subentrato e secondo me e non è un caso tutte le volte che vedi Morata subentrato ti fa la differenza vi faccio tre esempi in stagione con la Spagna dove entra e fa il gol dell'1-0 che la qualifica al mondiale con il Venezia quando fa l'assist Bernardeschi non mi ricordo se col Venezia o col Genoa o con la Salernitana una di quelle tre partite lì comunque dove Bernardeschi dalla sinistra la mette e Morata appena entrato fa il 2-0 e ieri che ti cambia completamente la partita tre episodi in cui Morata parte dalla panchina e diventa un giocatore da panchina d'oro riserva d'oro come si diceva in PES una decina di anni fa giocatore che ti cambia la partita partendo dalla panchina e aggiungo con la testa che ti dice ai 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 non sono partito dal primo minuto devo iniziare a mettermi qua per dimostrare che la prossima volta ci devo partire dal primo minuto che è un po' la sindrome di Alexandro di questi anni tanto non c'è un sostituto in panchina parto sempre titolare io ma chi me lo fa fare di impegnarmi pure no o di giocare meglio pure no tanto gioco ancora io la prossima quando i giocatori non sono sulla graticola per i ballottaggi avviene questo e quindi tienili lì tienili lì sulla graticola alcuni giocatori che a un certo punto fanno questi ragionamenti anche in maniera inconscia e involontaria tienili lì ma ribadisco che il discorso di Ken non si vede su una partita se mi dici che vuoi valorizzare i giovani i giovani devi far giocare soprattutto se sono tuoi li paghi 40 milioni di euro la partita di ieri di Ken è imbarazzante partendo da questo presupposto però se vuoi lavorare con i giovani devi pensare sul lungo non sull'immediato e non sulla singola partita sul lungo lunghissimo un paio di stagioni tre quattro stagioni devi pensare sul lungo se ti basi su una partita allora abbandona il progetto dei giovani lasci partire tutti i giovani prendi tutti i giocatori pronti e poi ogni due tre anni vai a cambiare la squadra vai a dare il ciclo come abbiamo comunque fatto anche in questi anni non dico che sia una cosa brutta però in questo momento tu stai facendo un altro progetto diverso da quello dell'Inter che ce l'ha nell'immediato tu ce l'avrai se lavorerai bene ce l'avrai negli anni queste sono alcune cose che volevo dire prima delle pagelle e aggiungo che l'allenatore secondo me e dopo tutto perché non sto valutando sulla singola stagione perché se valuto sulla singola stagione l'allenatore ha più colpe nella torta se valuto le stagioni complessive 50% della dirigenza 30-35% i giocatori 20-15% l'allenatore a seconda del mood quel 5% mi varia però ci sono dei giocatori ragazzi che sono inqualificabili in questo momento non perché siano scarsi ma perché in questo momento sono inqualificabili è un dato di fatto e lo abbiamo visto banalmente ieri che con due cambi due cambi ribaltata la partita poi coincidenza perché non trovi sempre la Roma che si ammazza davanti ai tuoi occhi e ti dice passami sotto cioè passami sopra uccidimi no non succede questo tutti i giorni però ieri è successo e per quanto coincidenza dobbiamo cercare di prendere quelle piccolissime informazioni che ci portiamo dietro e di innalzarle e farle nostre perché il campionato non è finito qua e se voglia raggiungere la Champions League correre avanti sperando di avere anche Federico Chiesa grazie a tutti grazie a tutti